ciao a tutte ragazze bentornate sul mio canale dunque un nuovo video in collaborazione con la fam in questo video vi vado a mostrare delle nuove basi semipermanenti che tra l'altro sto utilizzando tantissimo mi ci sto trovando benissimo infatti come potete notare queste sono unghiette di tre settimane se non erro ho utilizzato appunto queste basi che vi andrò a mostrare in questo video e mi sto trovando veramente benissimo non ho alcun sollevamento e sono molto molto resistenti dunque quindi come potete leggere qui bei scott collection dunque come sempre tutti i loro prodotti sono con la formula 7 free cioè sono prive di sostanze nocive e inoltre hanno in aggiunta delle vitamine e il calcio che come voi sapete ovviamente vanno a rinforzare le unghie dunque vi vado a mostrare un attimino qui appunto sul sulla loro brochure quello che c'è scritto quindi oggi cioè in questo video vi andrò a mostrare le hd builder base vi faccio un attimo uno zoom ecco qui quindi le hd builder base questi qui sono delle basi ideali per unghie sottili e fragili sono non sono molto rigide sono abbastanza flessibili sono adatte per fare la bombatura quindi come sapete il semi permanente rinforzato che ho quello che quello che ho sulle mie unghiette e quindi è una base ad alta densità e con questa si possono effettuare anche dei dei piccoli allungamenti ma veramente piccoli è tipo se avete un angolino sbeccato quindi per andare a sistemare appunto quell'angolino mancante quindi questo qui questi qui sono le basi come potete vedere ci sono tre colorazioni quindi lo vedo un po buio forse mi avvicino un po di luce allora abbiamo tre colorazioni la quella trasparente quella leggermente rosa latte diciamo così e quella di un beige un beige un po più scuro e mi sono scritta qui colori ve li leggo dunque abbiamo sì la g1 che è clear cioè trasparente g002 che è un rosa latte e la g003 che appunto cover beige a me hanno inviato le due colorate quindi vi posso mostrare tranquillamente i colori quindi questa è la g002 e vi faccio vedere appunto il colore ecco qui è un rosa latte molto delicato e inoltre potete vedere appunto come sono dense abbastanza dense quindi questa è quasi finita quindi non ne prende molto di prodotto però potete vedere comunque che non cola dal pennello e poi vi mostro la g003 quindi cover beige che è un po più coprente di questa qui tutte e due si lavorano benissimo ecco vedete sono abbastanza densa essendo semi permanenti si può vedere appunto quindi vi mostro subito con un video come applico io andrò ad utilizzare la g003 e il modo di applicazione il metodo di applicazione lo stesso per entrambe e niente vi lascio al video dimostrativo ciao dunque io ho già preparato l'unghia e andrò a mostrare l'indice se mette a fuoco quindi ho già preparato l'unghia e vado ad applicare il nel prep quindi queste basi che vi ho mostrato non necessitano di di primer e ovviamente se avete unghie eccessivamente insomma difficili eccetera eccetera magari applicatelo però io siccome non ho grossi problemi vado ad applicare appunto solo il nel prep e poi procedo con l'ht builder base nella colorazione g003 quindi procedo in questo modo stendo uno strato sottile su tutta l'unghia non toccando mai ovviamente le cuticole chiudo la punta e poi senza polimerizzare vado a prendere una quantità un po più abbondante di prodotto non tantissimo ovviamente perché dovrò andare a crearmi una piccola abbombatura quindi e vado a riempire tutta l'unghia mi piace molto come si lavora questa base perché inoltre si è densa però è molto autolivellante quindi veramente non avete assolutamente problemi a lavorarla una volta completata l'unghia vado a capovolgere il mio dito in questo modo picchietto un pochettino in modo che il prodotto si va a livellare meglio mentre cielo così se ha bisogno di una sistematina e la faccio controllo tutti e due i lati e poi ricontrollo frontalmente e lateralmente e se sono soddisfatta vado a polimerizzare perfetto dunque questa è la colorazione come potete notare è molto molto naturale io la lascerò così ecco qui una bella bombatura naturale ovviamente essendo un semi permanente non si va a esagerare non lo sapete quindi adesso vado ad applicare il top coat questo ha dato i semi permanenti e rilascia lo strato di dispersione quindi poi dopo la polimerizzazione andremo a sgrassarlo questo non dovete prenderne molto perché abbastanza liquidino quindi tende un po a colare e più consiglio di fare un dito alla volta non di farle tutte insieme perché davvero piccola poi ed è un disastro quindi anche qui sigillo la punta e vado a polimerizzare 60 secondi ok adesso vado a sgrassare per bene finché non sentite così questo rumore che forse non riuscire a sentire però va bene così ok e infine vado ad applicare l'oglietto per le cuticole questo qui è all'ananas ma è buonissimo inoltre sul sito potete trovare tante altre profumazioni sono tutte fantastiche quindi vado ad applicarlo intorno alla zona delle cuticole quindi qui è anche un po sull'unghia perché con un pan d'asciutto vado a lucidare meglio l'unghia ecco che qui forse sentite il rumore quindi quando fa questo rumore vuol dire che l'unghia è pronta e bella lucida ecco qui questo colore mi piace tantissimo tanto 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 veramente perché è naturalissimo e inoltre lo potete anche utilizzare steso a smalto ed è veramente stupendo quindi comunque vedete è uguale tra l'altro alla goccia che all'interno del tappino che è una delle mie cose preferite di questa azienda ecco qui quindi vi dicevo le colorazioni sono tre quindi questa rosa latte cover beige e trasparente che però io non ho e non vi posso mostrare si lavorano benissimo sono auto livellanti durante l'estate danno un leggero calore in lampada ma molto molto sopportabile si possono fare dei piccoli allungamenti molto molto corti e si può realizzare appunto la bombatura per effettuare il semi permanente rinforzato niente fatemi sapere se anche voi utilizzate questi prodotti come vi trovate se avete domande ovviamente potete scrivermi giù nei commenti e nell'info box vi lascio tutti i riferimenti appunto sul sito e altre informazioni che vi ho già ripetuto negli altri video appunto riguardanti la fam e quindi troverete tutto giù nell'info box spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao